L'amministrazione capitolina ha deciso di destinare nuove risorse per un totale di 5 milioni di euro al rafforzamento del servizio di decoro urbano e di cura di parchi, giardini e ville storiche. Dell'intera somma, 2 milioni e 8 saranno gestiti dal Dipartimento Ambiente e verranno utilizzati per operazioni di sfalcio nelle aree verdi della capitale. 1 milione e 800 mila euro invece saranno riservati al diserbo meccanico, cioè ad estirpare le erbe infestanti da marciapiedi, strade e piazze. Un importo che per un totale di 1 milione e 3 verrà ripartito in base al numero dei chilometri di strade di competenza dei municipi e per un totale di 500 mila euro in base al numero dei chilometri lineari di strade di competenza del Dipartimento. L'attività di oggi a via di Santo Nofrio è una delle attività che AMA sta portando avanti sul territorio e che riguarda le attività di diserbo che ritornano nell'ambito del perimetro delle attività svolte da AMA potenziando quelle che i municipi stanno conducendo. L'eliminazione del verde infestante e la cura del verde di pregio rappresentano quindi l'impegno dell'amministrazione nel definire standard di qualità della vita e dello spazio urbano.